Un motociclista con la passione per gli animali, Giacomo Lucchetti, è lui il testimonial della missione di soccorso animalista promossa dal distretto Lions Milano 108 IB4, partita da Milano lo scorso 25 maggio che sta toccando diverse città italiane fino alla Sicilia. Palermo, ultima tappa il 30 maggio, con un furgone sta visitando i centri di accoglienza di Randaggi ed è arrivato al canile di Campobasso con lui l'inseparabile Juliet che adottò proprio nel canile di Santo Stefano 5 anni fa. Noi nel 2019 abbiamo costituito il primo motoclub animalista d'Italia che pone il mondo delle moto in aiuto degli animali bisognosi, abbiamo già effettuato quasi 50 missioni di soccorso tra zone terremotate e sud Italia, questa in particolare la possiamo definire la madre di tutte le missioni di soccorso. Che cosa avete portato a questi amici a quattro zam? Sono più che altro prodotti alimentari secchi, quindi crocchette, queste cose qui che sono stati offerti da ruani di macerata. Ad accogliere Lucchetti al canile di Santo Stefano esponenti del distretto Lions 108A del Lions Alert Team e del motoclub Cuori in Corsa, le volontarie e l'assessore comunale Simone Cretella. Lucchetti ha consegnato anche due targhe, una alle volontarie, un'altra al Lions, dei riconoscimenti per l'attività svolta. Noi abbiamo aderito immediatamente a questa iniziativa perché ci sembra doveroso che anche il Lions si attivi in maniera concreta per il randaggismo che è una grossa piaga italiana. Qui a Campobasso ma anche a Mirabelli? Qui sì, si ferma qui al canile comunale di Campobasso e poi andiamo a quello privato, tra virgolette, di Mirabello, dove comunque Giacomo ha portato coperte, vettovagliamente per gli animali e medicine. Sosteniamo la lotta al randaggismo, è un atto di civiltà, è l'appello di Giacomo Lucchetti. In pillole il messaggio che oggi vuoi lanciare anche qui in Molise qual è? Ma il messaggio è uno solo, che la vita non si compra ma si adotta perché come la vita delle persone, anche quella degli animali, ha un valore immenso, infinito, quindi ci sono migliaia di esseri viventi rinchiusi nei box dei vari canili di tutta Italia. Mi sembra assurdo che ancora oggi si vada a speculare sulla vita di questi poveri esseri viventi che vengono chiaramente acquistati a prezzi folli nei vari allevamenti, soltanto per l'ambizione di avere il cane o il gatto con le pedigree. Quindi la vita non si compra.